L'aluminio è un materiale che si ricicla all'infinito, al 100%, senza perdere nulla, nel senso che nel processo di riciclo non si perde nulla di questo materiale. Tra l'altro siamo anche molto attivi non in quello che viene identificato maldestramente come overpackaging, ma come quello che invece viene identificato come packaging eccessivo, perché c'è una differenza tra le due terminologie, tant'è che prendono sempre più piede questa borraccia, per esempio, questi metodi alternativi che sono costituiti da queste borracci in alluminio al 100% riciclabili che servono appunto per l'acqua. La nostra mission è quindi questa, parlare di economia circolare, valorizzare questo materiale ma soprattutto valorizzare il riciclo di questo materiale e siamo contenti che quest'anno in particolare Cinema Ambiente abbia attivato questa sezione dedicata ai ragazzi, perché noi con i ragazzi, in particolare con il Geffoni Film Festival, lavoriamo ormai da 15 anni e siamo molto felici perché, tra l'altro, in concorso nella sezione Junior ci sono alcuni video realizzati da ragazzi che partecipano al nostro concorso per le scuole superiori. Ho visto, tra l'altro, il vincitore dello scorso anno della nostra categoria che si è anche iscritto al premio di quest'anno e fra i 30 finalisti. Quindi, ovviamente, continueremo a seguire Cinema Ambiente con particolare attenzione a questa sezione che noi interessa in maniera specifica. Grazie.